Salve a tutti ragazzi e bentornati sui video sui server 2 con Peggo Blast La serie al pagamento di eredezza Al redemento 7000 mi piace per il prossimo episodio Ad ogni modo Sì perché se no non la continua la serie Lo sapete No facciamo cotto Sì Siamo col castoro Siamo a un livello spropositatamente alto E questi cosi che non si dovrebbero vedere Non mi interessano Non stiamo usando poteri Bonus Niente Non so fin quando potrò andare avanti senza usare poteri bonus Ma ad ogni modo il castoro ci verrà in aiuto Partiamo subito Prendo un multipalla perché è giga grosso Multipalla ok ho bruciato il fuoco Ho tolto la palla di fuoco Però non ho fatto punto Sono una merda proprio Tiro super lungo Doppio tiro lungo Palla bonus Devo fare tutte queste cose qui Proprio perché se no perdo Fino adesso non ho mai perso E me la sto tirando la zappa Ma adesso viene tiro super lungo No e dai ah Dai prendi quel viola di merda Merda che merda di cosa Devo arrivare a 75.000 punti Scusa ma perché questo non si toglie? Proviamo Ok Ok si è tolto Allora Prendo il viola No 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 Bravo Redez Hai fatto un tiro di merda Di quelli proprio merdolosi Dai Mamma mia Mamma mia un tiro brutto dopo l'altro Non si andrà avanti Non si va avanti così Non si va avanti No Palla bonus Houston Houston abbiamo un problema Se qua Redez non si dà una mossa Oh no 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 Tre palle Ecco come tirarsi la zappa sui piedi Basta parlare E dire Non ho mai usato una cosa prima E bam Che arriva Porca troggia No Due palle rimaste La vedo Veramente Palla bonus Allora posso provare a fare un tiro di quelli miei Tiro C'è C'è Ok Ultima palla Mamma mia Grandi grandi emozioni Sì Ragazzi Ragazzi Una merda Ho fatto due Però è andata bene così Ho fatto veramente una partita brutta Sono io il primo a dire che è stata una partita brutta Livello 19 19 con arcobaleno Fai cadere tutte le gemme Ah gemme Totalizza 25.000 punti Grazie ancora per avermi aiutato a riavire le mie gemme Di niente Sei proprio una pioggia di gemme per ogni vittoria Sei pronta a una pioggia di gemme per ogni vittoria Oh mio dio Non voglio No Non voglio la super guida No 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 Redez L'unico che quando tira una volta la palla Poi La palla vince da sola Proprio Palla bonus Giuro che io Ho sbagliato a cliccare Lo giuro Oh 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 Palla dammi la palla bonus Stai Oh no Ok Due palle rimaste Prova Con la Multipalla di mer Però ho ripreso due palle Vai No L'ho incastrata Devi morire male 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 Extreme Vabbè questa è velocissima Raga è andata male Cioè è una brutta partita Però il castoro Devo dire la verità Andava meglio Quando andava peggio Con il capricorno Grazie Ecco di due gemme Oh Ce la facciamo a fare un giro tondo Super Super Civo Stremo Palla bonus Al primo tiro Quindi Un tiro Come se non l'avessimo Mai fatto Ecco E' un altro Con l'attacco Che va direttamente Triplo gioco Questo significa Triplo gioco Ho preso due verdi No No L'ho sbagliata L'ho sbagliata L'ho sbagliata Volevo fare un giro Oh Dai Dai Potevo andare pure di là Invece niente Quante palle C'ho sei palle C'ho sei palle C'ho sei palle Ok Aspetta Aspetta No Tutto il momento No Quando devi cliccare Non si clicca Sto coso di mer Ma avete visto Tappare Ma avete visto Ok Rientra 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 Però ho preso Una palla bonus Il che E' tutto dire Voglio dire Super tiro Super tiro No No Pensavo di averlo preso Pensavo di averlo preso Invece non l'ho preso No BOM Blast Niente Manco Blast Andata bene Mi è piaciuto il penultimo tiro Finalmente qualcosa di bello Si vede E non ho preso tre stelle Ma 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 Voi che punteggio avete fatto qui? Fatemelo sapere 21 21 Colpisce la pignata per ricevere un premio speciale Oh Ok Eh E' un macello qua E' un caso Batti muro Più tiro lungo Dai Entra dentro la pignatta Distruggi la pignata Ah ok Distruggi la pignata Mamma mia Quante palle bonus Doppia palla bonus Ho fatto 185.000 punti E siamo appena Qua all'inizio Bentornato Redez Ecco qua Dai C'ho 12 palle Non so se vi rendete conto Dai eh Mori Palla bonus Ok Ho fatto cascare la pignata Ce la faccio a colpire tutte e due? No Dai No Maledetto Allora sai che facciamo? Come vi ho detto prima Tentiamo la super festa giga estrema Bravo bravo Tanto c'ho 6 palle Ce la facciamo Voglio vedere cosa mi da No 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 Ok Palla bonus Ok Tutto finito Quindi tipo giga mega super ultra Ultra extreme fever Con peggo il blast integrato Figo Quindi 3 stelle Ho fatto bene a fare la ultra extreme fever Livello 22 Come sarà il livello 22? Voi a che livello siete arrivati soprattutto? La pignata spengono le palle di fuoco Una cosa davvero strepitosa Ah ok Oh cazzarola Quindi devo spingere la pignata Ah perfetto Ok 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 ci siamo Non so nemmeno io come abbia fatto Però è bene rompere le pignate praticamente Cazza bubolata Veramente mi piacerebbe tantissimo sfidare Sinergo In qualche modo Anzi se avete idea di come poterlo sfidare Ditemelo Magari facciamo un livello ciascuno Oh non ho usato mai la palla multipla Oh eccola qua La palla multipla Palla bonus Palla bonus Dopo palla bonus Triplo gioco Palla bonus Attenzione Ho fatto un macello di punti Provo eh Non mi sa che da qua Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Palla bonus Riproviamo la ultra extreme fever No non ce ne frega niente Dai eh Vai emo Extreme fever Vediamo se la rifacciamo No niente Vabbè non ci interessa Tanto se abbiamo già tre stelle Non abbiamo fatto il blast Quindi meno 100.000 punti Cioè Veramente non abbiamo Però tre stelline le abbiamo prese Molto bene Sta andando molto bene questa cosa Ho cominciato a capire le dinamiche di giotto Fai cadere tutte le gemme E questa sarà tosta eh Ecco immaginavo Guarda dove me hanno Cioè i multibiglia Guardate dove me l'hanno messe Eh no Inutile Inutile Mamma quanto è inutile Ma è buono Ho fatto cadere un'altra Dai Guarda guarda Tostissimo sto livello Sì ma qua Più andrò avanti E più sarà macello Muori Schiatta palla Tutte e due Centro Centro ma mi dai 10.000 punti Sto facendo uno schifo nero eh Dai 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 Madonna Ragazzi qua non ce la faccio Qua non ce la faccio Non ce la faccio Multibiglia Guardate l'ho preso Guardate Madonna Dai No guarda No Cavolo Dai Heredes non ti deprimere Ultima palla Questa Questa è depressione Ok Ce la posso fare 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 Posso provare qua Con rimbalzo A tornare su Però è l'unica cosa Che posso fare No Ok Questa la bonus Oddio 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 Provo a entrare di qua No Solo una gemma rimasta Mi è perculato La vediamo al prossimo Alla prossima volta La prima volta che perdo Dopo quattro partite Riuscirò a finire questo livello Dipenderà da voi